Ciao a tutti, sono Attilio Fontana ed esordisco con un grazie. Grazie perché c'è bisogno di preghiera, di raccoglimento, di un grande abbraccio e di un'energia nuova dopo un periodo che sicuramente ci ha scossi e toccati tutti quanti in qualche modo. Quello che vi chiedo, essendo un artista e un pensiero in più, una preghiera per la nostra categoria, categoria secondo me di anime speciali perché hanno sempre la capacità di regalare una carezza e un'emozione facendo cose armoniche e belle e in riferimento a questo ho riletto con piacere una lettera del 4 per il del 99 di Giovanni Paolo II che parla proprio di questo, parla del creare bellezza e addirittura paragona l'artista a Dio nel momento in cui crea il mondo. Dice che l'artista è il più bravo imitatore di Dio nel momento in cui crea qualcosa che è in armonia con il bello e con il divino e mi piaceva un po' trasferire questo pensiero e ricordarlo in questa lettera dove ci apostrofa come creatori di bellezza. Ecco, la preghiera mia è che gli artisti possano continuare a creare bellezza in sintonia come se fossero un'antenna del divino e continuare un po' a poter vivere e creare opere che ci ricordano quanto in qualche modo la vita raccontata o espressa attraverso l'arte non è poi così secondaria ma diventa parte di noi nel momento in cui somiglia alle nostre vite, al nostro credo e al nostro desiderio di raccontare profondamente la vita. Quindi grazie a chi avrà una preghiera anche per noi e un abbraccio grande a tutti di cuore. Attilio. Grazie.